Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Ben ritrovati da Sette in Punto, stamattina parliamo di politica e lo facciamo con una compagine nuova, una compagine europea, non è proprio nuovissima perché è nata nel 2017 all'indomani dell'annuncio della Brexit in Gran Bretagna, si chiama Volt e qui abbiamo questa mattina il coordinatore regionale di questo movimento politico di livello europeo. E do il buongiorno e il benvenuto a Luca Bonarrigo. Buongiorno. Volt, prima si diceva fuori onda, io scherzavo perché mi sembrava quasi banale pensare al Volt dell'energia elettrica, invece tu lei mi ha confermato che il nome nasce proprio dal Volt. Sì, perché è per dare l'idea dell'energia e del fatto che è l'energia che vogliamo mettere di nuovo nella politica, che in questo momento sta subendo un po' dei contraccolpi abbastanza forti nell'avvicinamento delle persone alla politica, che la vedono ormai come una cosa molto distante, molto settoriale, molto radicata in se stessa. Quindi sperate di poter riaccendere una luce dove c'è buio? Beh, ci proviamo. E nella scelta del nome Volt, al di là del significato intrinseco dell'energia, della luce, della luce in fondo al tunnel, della fuoriuscita dalla selva oscura, ci sono tante immagini che evocano questa situazione. Il fatto di aver scelto un nome che in qualche modo sia intellegibile in tutta Europa, che abbia lo stesso suono, la stessa semantica in tutta l'Europa, dà anche un senso di l'Europa non si divide, che è un po' questo uno dei vostri punti del programma, ritengo. Il punto principale del programma europeo è sicuramente la riforma europea. Quello che è diventato alla fine, che è risultato palese con la Brexit, è il fatto che ormai l'Europa è arrivata a un punto di stallo in cui o evolve oppure si spezza. Quello purtroppo è quello che ci ha dato idea, proprio la Brexit. Abbiamo compagini sovraniste che cercano sempre più di portare l'Europa ancora alla divisione di interessi nazionali, e che purtroppo è quello che in questo momento è, perché comunque la politica europea si basa sempre su emissali nazionali che cercano ovviamente di portare i loro interessi nazionali in Europa. Voi avete una visione unitaria, europeista, che è federalista. Ci vuole spiegare come nasce questo movimento? Perché poi è un movimento giovane, ma che ha già un seggio nel Parlamento europeo. Sì, perché siamo entrati un po' come gli outsider in queste elezioni europee, in cui ci siamo comunque presentati in otto paesi. Non siamo riusciti a presentarci in Italia, anche se ci abbiamo approvato, perché le leggi elettorali sono diverse in tutti i paesi europei, che è un'altra delle cose che abbiamo scoperto ovviamente praticamente mentre cercavamo di presentarci in vari stati, perché il nostro progetto è quello di arrivare ad avere un gruppo europeo che porti avanti il nostro programma in Europa. La differenza appunto, proprio di mentalità e da cui parte Volt, è il fatto che noi partiamo dal concetto di essere europei. Non possiamo essere un partito europeo perché attualmente non esiste, non è consentito in Europa. In Europa arrivano vari rappresentanti dei vari partiti nazionali che si uniscono poi in gruppi, che sono gruppi eterogenei. Questi gruppi ovviamente stanno a portare avanti delle lotte comuni, però anche loro hanno delle ovviamente correnti, perché sono composti da un sacco di compagini diverse. Voi in quale gruppo afferite? Cioè il vostro parlamentare dove siede nell'emiciclo? Siamo entrati nei Verdi, nel gruppo dei Verdi che anche loro sono l'outsider di queste elezioni, che è stato un gruppo che ha preso una grossa fetta alla fine perché sta diventando un gruppo di peso. Siamo un gruppo giovane, un partito che parte... Perché la nascita risale al dopo Brexit, all'indomani della Brexit? Perché nasce intanto da dei ragazzi tutti under 30, per cui i ragazzi che si sono conosciuti, perché è una ragazza francese, un ragazzo italiano e un ragazzo tedesco, che si sono conosciuti in Europa, sono conosciuti tramite l'Erasmus, tramite gli studi, tramite i viaggi che hanno fatto. La generazione degli under 30 è quella che ha vissuto di più... I vantaggi dell'Europa, possiamo dirlo. E in molti casi... Che io da studente che l'under 30 l'ho dimenticato nel secolo scorso. Si dice sempre, noi generazione di 50 anni, non abbiamo avuto quelle opportunità, perché c'erano proprio i primi Erasmus, ma ci poteva andare come vincere un po' a superanalotto. Sì, adesso è molto più diffuso. Ecco, e effettivamente da ex studenti che non hanno avuto quella opportunità, vediamo, siamo ancora quella generazione che ha creduto, se vogliamo, nell'Europa, e quindi tanto più i nostri figli, perché più o meno voi siete i nostri figli, che avete potuto realizzare questo tipo di esperienza, ritengo che sia per voi assurdo che ci sia un colpo di spugna e ritornare a una visione di restaurazione, se si può dire. Sì, esatto. Il fatto di iniziare a riporre dei limiti nella circolazione, soprattutto delle persone, perché è quella che arricchisce di più, perché va a conoscere effettivamente come sono le altre persone dell'Europa e scoprire che alla fine non è che siamo così diverse da noi. Siamo diversi, ma comunque gli esseri umani poi si somigliano un po' a tutti. Io poi sono per giunta anche un po' fuori media, perché io ho più di 40 anni, mentre la media di Volt in generale è di 35 in questo momento. Abbiamo tantissimi, anche comunque appena ventenni, perché sono molti universitari, molti appena usciti dall'università, appena laureati, oppure che partono, e anche questo comunque è una cosa che accomuna, ho visto, molti partecipanti di Volt. Sono persone che difficilmente sono nate, cresciute e vissute nello stesso luogo. Molto spesso sono magari veneziani che vanno a studiare a Padova, a Trento, poi vanno a fare la tesi, abbiamo una ragazza che adesso è a Parigi, e sta comunque collaborando con Volt Francia. che questa è una grossissima forza, perché c'è proprio un'ideologia comune e un'idea comune che viene portata avanti da tutti, che è comunque la forza di un partito europeo. Ed è un'Europa diversa quella che voi raccontate rispetto a quella che forse voi raccontate in Europa, che è quella che vivete, che differentemente magari chi ha delle perplessità verso l'Europa, che poi le perplessità internazionali, credo che siano dettate dalla politica economica. Sì. È il fatto che, quando si dice usciamo dall'Europa, è sintomatico del dire usciamo dall'euro. Sì, molto spesso. Voi, sulla base di questa, probabilmente l'Europa è voluta, il concetto di Europa da quel 1900 che è nata, praticamente è voluta in maniera diversa da quello che ci si aspettava. Lei prima diceva che bisogna fare una riforma dell'Europa. Questo partito, Volt Europa, che poi ha le sue declinazioni in ogni paese, c'è Volt Italia, addirittura Volt Veneto, che significa che vuole anche avere un peso nella politica nazionale. Che cosa si propone? Quali sono i punti del programma? Ti do del tu perché non ci riesco a darti del lei, perché tu hai evidenziato che è espressione di quel gruppo di giovani elettori che si stanno riappropriando della politica intesa come gestione della cosa pubblica, che vogliono decidere del proprio destino, del proprio futuro. Qual è il programma di questo movimento giovane? L'ambiente, anche sulla base dei Friday for Future, sembra quasi un elemento scontato. Sì, in questo momento l'ambiente è un po' un cavallo che stanno cercando di cavalcare un po' tutti, correttamente anche, perché stiamo parlando comunque non di una priorità, il cambiamento climatico è un'emergenza e dovrebbe essere la... non puoi neanche considerare una priorità, perché le priorità possono essere più o meno gravi e più o meno al centro dell'attenzione. È un'emergenza, dovrebbe essere veramente il fulcro intorno a cui nascono e crescono le riforme che verranno fatte, sia a livello lavorativo, che a livello tecnologico, che a livello sociale, perché la sostenibilità è uno dei... assolutamente dei cardini. È la... la... i cinque punti che portiamo avanti a livello europeo, che sono cinque più uno, sono appunto la rinascita economica, lo Stato intelligente. Che cosa intendete per Stato intelligente? L'abbattimento di tutti quei limiti burocratici che impediscono alle persone di collaborare anche attivamente all'interno di uno Stato. In Italia siamo... Un Stato deficiente. Siamo uno Stato estremamente efficiente a livello di burocrazia. Cioè, deficiente alla Latina, che deficiente di questa intelligenza... Amministrativo-gurocratica. Sì, noi riusciamo a complicarci anche se è possibile, quando possiamo. Per cui, snellire le procedure, anche solo per aprire un'azienda. Quindi, comunque, un occhio al fatto che le persone hanno bisogno di sentire... Il fatto di poter sentire... far sentire la propria voce, anche. E questa cosa si traduce comunque in utilizzi tecnologici che porteranno, appunto, ad avere migliorie. E su questo guardiamo sempre all'Europa. Portiamo le migliori pratiche che ci sono in Europa. Perché abbiamo utenti anche in paesi dell'est, come la Lettonia e l'Estonia, che hanno, ad esempio, loro nello Smart State sono molto avanti. Sono anche agevolati perché sono probabilmente partiti in quell'ottica. Però, perché dobbiamo inventarci una cosa nuova? Cerchiamo di guardare a come hanno fatto i nostri colleghi di un altro Stato europeo. Loro hanno questa cosa, sono riusciti a raggiungere questa cosa. Cerchiamo di declinarla nel territorio. Parliamo di Stato, parliamo di regione, parliamo di comuni. Quindi Smart State, Smart Cities e compagnie belle. Tutto quello che porta, appunto, alla tecnologia. Ci sono già tecnologie che stanno portando avanti. Padova, in questo momento, sta testando di nuovi mezzi per trasporto pubblico. Sono avveniristici. Quelli fatti a capire, a scatolette che vanno da sole. Sono roba da fantascienza. Anni fa sarebbero risultati assolutamente incredibili. Però le stanno per applicare. Queste cose sono ormai odierne. Entreranno nella vita di tutti. E portarle in maniera il più fluido possibile. E più anche educato possibile alle persone. Nel senso che si informano le persone di cosa sono. E di quali sono i propri diritti, le proprie cose. E quello che può portare lo Stato a loro. E quello che può essere, appunto, le riforme devono essere sempre informate. Non possono arrivare dall'alto e basta. Portano solo rotture. Però lei sta citando un metodo di partecipazione dal basso. Che mi evoca un partito che si chiama Movimento 5 Stelle. E che in qualche modo è un bel punto di partenza. Ma poi, ripeto, l'esperienza dei 5 Stelle si va a scontrare con quell'evoluzione che abbiamo visto. Allora, voi avete tutto un programma che è pieno di nobili principi. Ma vi siete chiesti, anche alla luce di questo partito, che comunque credo fosse il 5 Stelle, avessero iniziato con le migliori intenzioni. Vi siete chiesti, ma è possibile applicare questo programma in Italia? O forse è più facile applicarlo in Europa e poi in una visione europeista che va a cozzare con un atteggiamento sovranista, che sembra l'espressione dell'elettorato italiano in questo momento. Sembra, dico, perché appunto parlando sempre dei risultati europei, in cui i principali partiti sovranisti hanno avuto un buon risultato, che questo sia applicabile. Cioè, voi dovete mettere in piedi una vera e propria rivoluzione. Magari la Brexit, con lo stop che sta subendo, già vi dà un segnale che siete sulla buona strada. Però, quali sono le prospettive fattive, poi? Partiamo da un'idea. Sappiamo che non è facile. Non sarà facile e non sarà una cosa che potrà essere portata avanti in due, tre, quattro, cinque anni. Sono le riforme che vogliamo portare avanti in Europa e che vogliamo portare avanti anche, ovviamente, nei territori nazionali. A cascata, perché comunque, se parliamo di un'Europa federalista, vuol dire che i territori hanno comunque la loro capacità di governo. non è facile, non sarà facile, soprattutto nella condizione attuale. Ed è il motivo per cui bisogna arrivare dai territori e arrivare in Europa, perché l'Europa possa tornare ai territori. Quindi si parte dall'Europa? Non si, è un doppio filo. L'Europa è formata dall'Italia. Ma voi avete una visione dell'Europa delle regioni e dell'Europa degli Stati? In questo modo del federalismo. probabilmente di comunque bisognerà lavorare su Europa di macro regioni, ma non solo di macro regioni confinanti, anche di macro regioni economiche, produttive. Quindi il fatto che comunque zone di vari Stati possono avere esigenze comuni. Mantenendo la sovranità nazionale. Assolutamente. La sovranità nazionale va comunque a essere ridotta, perché il federalismo, vedendo come è ad esempio gli Stati Uniti, ci sono vari gradi di sovranità. Quindi un po' il modello degli Stati Uniti d'America? Lì bisognerebbe applicare e trovare un metodo che stia in Europa, perché non siamo gli Stati Uniti d'America, non siamo neanche la Germania, anche la Germania alla fine è un Stato federale. Però come ho detto prima, non si può prendere, applicare un modo... Perché la Germania ha meno regioni rispetto alle nostre... Assolutamente. Ha 3-4 aree di diversità, non come noi che abbiamo... Noi poi l'Italia è uno Stato di suo che è molto frazionato, parliamo comunque di 20 regioni, che già si distinguono. Come vi ponete di fronte alla richiesta del Veneto? Adesso entriamo, ci cariamo un po' nel territorio, anche perché se lei diceva, tu dicevi che dall'Europa, con questa visione che hai spiegato, che è un po' il fermento giovanile, il riscatto dei giovani, il riscatto di chi ha vissuto forse in prima persona all'Europa e non c'è andato in vacanza, come magari possono essere i senior, dicevo, vi presenterete, suppongo, sia alle comunali di Venezia piuttosto che alle regionali del Veneto. L'autonomia, che è un elemento fondamentale nella regione del Veneto, è stata richiesta. Voi che posizione avete nei confronti di questo dibattito che è in corso? Noi siamo d'accordo con le autonomie locali. Il pericolo delle autonomie, quando vengono evocate, è il fatto che rispetto al principio della sussidiarietà, cioè il fatto che possa essere portato il governo localmente e essere sempre più capaci di governare le proprie risorse, si perda il concetto di solidarietà. Per cui va bene l'autonomia locale, ma deve sempre essere integrata in comunque un governo più esteso. Non può questo andare a scapito completo del resto dello Stato. Per cui io personalmente non ho visto delle proposte ancora chiare su come voglia essere portata avanti questa cosa. È una cosa che comunque è prevista dalla Costituzione italiana, il fatto che ci sono varie autonomie differenziate. Su questo però bisogna capire esattamente come farlo. Bisognerebbe che chi sta portando avanti la questione dichiarasse anche bene esattamente cosa vuole che questa autonomia porti. Lei diceva, tu dicevi che in Europa siete nel gruppo dei Verdi e sottolineavi l'eterogeneità di questi gruppi che sono espressioni di posizioni politiche molto variegate all'interno del singolo Stato. In Italia, in una visione di partiti italiani e anche in una prospettiva di partecipazione alle prossime scadenze elettorali, in che area vi collocate? Quali sono i vostri alleati più naturali? Su questo è una bella domanda. Siete un po' più a destra, un po' più a sinistra? In questo momento direi che in Italia ci collochiamo un po' più a sinistra nel panorama politico, soprattutto se in questo momento la destra si piazza su quei partiti lì. Su questo però cerchiamo di evitare un piazzamento netto, nel senso che cerchiamo soluzioni. Le ideologie nette portano molto spesso a dover percorrere una cosa che diventa o così o niente. il mondo è cambiato negli anni. C'è ancora l'ideologia? L'ideologia ci sono ancora, sì. Sì, anche in Europa si respirano? Sì, l'espressione politica che c'è attualmente, sia in Italia che in Europa, è espressione di ideologie. Si sono stemperate, si sono magari affievolite, ci sono dei colori molto meno forti. Ma si sono ammodernate, perché poi l'ideologia deve anche andare un po' di pari passo con le problematiche e la soluzione dei problemi, perché la politica non è partito preso, la politica è gestione della cosa pubblica secondo una visione piuttosto che un'altra. Sì, dovrebbe esserlo. Ecco, in questo riscatto, in questa rinascita dei giovani attraverso il vostro partito che vogliono essere partecipi della vita politica, c'è anche la voglia di rifondare un'ideologia, ma questa ideologia come è strutturata? Cioè abbiamo destra e sinistra, oppure la maggior parte dei giovani credono in Europa Unita, credono anche in questi concetti di solidarietà, di integrazione, di libertà, di abbattimento delle barriere, perché si ha un po' come la sensazione che quello che è sempre stato sognato e oggi magari non si vuole più, non si capisce come sia possibile. Io parlo di quella generazione di giovani che c'era ancora il muro di Berlino, quindi quando l'hanno abbattuto sembrava una conquista irreversibile. Oggi riparlare in qualche modo di rideterminare i confini, anche con delle motivazioni che possono essere legittime, sembra un tornare indietro, è un tornare indietro, un evolvere. Volevo capire qual è il fermento politico che anima i ragazzi giovani. Credo che i ragazzi sono cresciuti in un periodo storico in cui le ideologie erano già stemperate. Già chi è cresciuto negli anni 70, inizio degli 80, ha vissuto quello che era alla fine la prima repubblica, è stata l'ultima vera grossa espressione della divisione destra-sinistra. E centro, non dimentichiamo che c'è un centro. Assolutamente centro. Pentapartito, anzi i tentativi del bipolarismo hanno prodotto questi governi un po' zoppicanti. Però vedo e credo che più che appunto all'ideologia si punti i principi. I principi basilari del fatto che appunto le persone, ad esempio, devono essere rispettate indifferentemente da colore della pelle, credo, preferenza sessuale, tutti quei diritti base delle persone. Siamo un periodo progressista. E come vi ponete di fronte al fenomeno dell'immigrazione? Prima lei diceva che non è neanche una priorità quella dell'ambiente, è un dato oggettivo che tutti dobbiamo affrontare. Nel caso dell'immigrazione, che in qualche modo può essere anche questo specchio anche dello stesso cambiamento climatico. Lo è, tantissimi ormai. Perché non è solo una questione di guerre. Assolutamente. Come vi ponete? Fatto salvo che in Europa non è che si possa accogliere l'Africa. No, su quello è il dubbio. È anche una narrativa un po'... sì, che anche lì sta iniziando a vacillare e non si sente già più così spesso. Rispondo con un'altra provocazione, che è il fatto che la narrativa di adesso è o porti chiusi o porti aperti. No NG, no questo, no l'altro. Chiudere. Sono gli slogan più che la narrativa. Sono slogan. Poi alla fine, dietro questi slogan, sia da una parte che dall'altra, la situazione di stallo permane. Gli slogan sono slogan, non sono soluzioni. Certo. Rispondo con un'altra provocazione, scherzando, che è veramente una provocazione che abbiamo provato a portare avanti, che è il fatto che a noi i porti chiusi stanno bene, sta bene anche che non ci siano le NG, perché non vorremmo che debbano esserci delle organizzazioni non governative che sono costrette a salvare delle persone, perché gli stati non lo fanno, perché gli stati non si interessano di risolvere e collaborare con altri stati esteri e quindi si ritrovano a dover decidere tra l'umanità e la disumanità. Il tirare su un muro è restare chiusi dentro le proprie mura, come le cittadine medievali, e aspettare che questa cosa finisca. L'essere umano è cresciuto e si è evoluto nella migrazione. È proprio la nostra natura umana a portarci a spostarci da una parte all'altra. Certo, però abbiamo anche visto che questa immigrazione, quindi forse io credo che tutti gli italiani sia sempre stato un popolo di accoglienza. Poi verificarsi di episodi con delle presenze sempre più massicce, credo che sia naturale anche al più accogliente cittadino d'Italia che se hai un immigrato che ti crea qualche disagio, indubbiamente diventi molto scettico e vuoi chiudere tutte le porte. Di capi espiatori, si punta sempre. Anche quelli sono ricorsi storici, si cerca sempre di trovare un colpevole. Ma quindi secondo te c'è una soluzione? Perché prima mentre parlavi dell'azione delle navi dell'ONGI, in una dinamica ben più, meno eclatante, pensavo al volontariato che si sostituisce al welfare. Laddove non c'è il welfare abbiamo il volontariato. L'Italia è uno Stato in cui c'è molto attivismo di volontariato, di associazionismo. Sì, ma che alle volte si sostituisce allo Stato e questo non va bene. Sì, l'associazionismo si sostituisce sempre dove non c'è lo Stato. E lì, infatti parlando con ragazzi di altre nazionalità, io poi questo mese vengo da una riunione europea, una riunione italiana. E che cosa emerge? Emerge che abbiamo problemi comuni e abbiamo la possibilità di trovare soluzioni comuni. Ci sono quindi, vedete all'origine delle soluzioni? Le soluzioni ci sono se si vanno a cercare delle soluzioni. Parlando di immigrazione, l'Italia non può fare da sola, è palese. Questa cosa è un... Ma perché l'Europa non si è assunta allora alla propria parte? Stiamo tornando alla questione di prima. Ognuno guarda il proprio interesse nazionale. C'è poca visione europea. E anche lì, se più guardi la tua componente nazionale, meno vai a discutere in Europa con chi potrebbe magari darti una mano. È stato palese l'esempio del fatto di l'Europa non ci dà una mano, cambia ministro degli interni, tre settimane dopo inizia a vedersi un accordo. Le cose, la politica... Però la politica non può andare per antipatia o simpatie. Assolutamente no. Dovrebbe essere, a prescindere dal colore del ministro, dovrebbe essere... Ma era un'azione del ministro, non era un'azione dell'antipatia della questione. È quando ti poni in maniera... ...antipatica. Extronomea. Non solo, in maniera poco collaborativa, perché comunque la non collaborazione dell'Europa ha sempre fatto gioco a un certo tipo di politica. Perché se tu provochi un problema, cosa che si sta provocando con l'immigrazione? Perché un'immigrazione che volge all'integrazione all'interno dei territori non diventa un problema sociale. No, però, proprio parlando di Veneto, l'integrazione, tra virgolette, è vero che possono essere dei casi isolati, eccetera, eccetera, però abbiamo visto che ci sono stati casi di gestione disordinata dell'integrazione, chi ha speculato, chi ha lucrato. Quindi questi episodi poi fanno, nella gente comune, poi teniamo conto anche in un momento di difficoltà, perché stiamo vivendo ancora anni di crisi, anni di difficoltà. Quindi per dare, appunto, per recuperare anche quelle persone un po' disilluse e che non nascono sovraniste, che non nascono con il muro, il dialogo, secondo il vostro movimento, può essere la strada, la concertazione? Il dialogo e la concertazione sono sempre la strada per arrivare a delle soluzioni. Soprattutto quando si sta parlando di fenomeni che sono transnazionali e sono di comunque entità non gestibili dai singoli stati. Bisognerebbe trovare, e sull'immigrazione è palese questa questione, bisognerebbe parlare con gli stati da cui arrivano queste persone, bisognerebbe iniziare a ragionare in maniera globale e anche lì l'Europa porta a una questione. Se l'Europa fosse veramente uno stato coeso, avrebbe una politica estera comune, cosa che in questo momento non ha, perché ogni stato porta avanti una sua politica. Palese è quello che è stato, porta avanti anche la sua politica economica. Tutti gli stati si sono messi a trattare con la Cina per la nuova via della setta. Le politiche lavorative sono estremamente differenti. Quindi non è solo una questione di Italia, dell'Italia, di Salvini. No, è una questione diffusa. È una questione diffusa in generale, ma perché abbiamo proprio problemi comuni. E voi siete quell'interruttore che in qualche modo vuole cambiare l'approccio alla politica europea. di portare soluzioni. Secondo lei, e siamo in chiusura, dato che i risultati dell'Europea parlano chiara, gli italiani hanno ancora voglia di Europa oppure hanno voglia di Italia, che abbia un ruolo in Europa? O hanno voglia solo di Italia? È una bellissima domanda. Io credo che il guardare alla propria piccola distanza sia quando hai pochi mezzi, o un po' di paura a guardare all'esterno, perché non lo conosci. E secondo me la conoscenza reciproca è il gradino che porta all'esterno. Insomma ci vuole un po' di volt. Ci vuole un po' di volt e un po' di viaggi. Io ringrazio Luca Bonarrigo, coordinatore regionale di Volt Veneto, questo nuovo partito in Europa che vuole proporsi anche in Italia e in Veneto. Grazie, a domani mattina, arrivederci. Grazie, a domani mattina, arrivederci.